Il Comune vara nuove regole per evitare il proliferare di mega verbali per l'accesso alla ZTL, multe da capogiro che in passato hanno colpito cittadini buona fede che dopo l'entrata in vigore dei varchi telematici si erano dimenticati di rinnovare il permesso. Ecco nel dettaglio come vengono modificate le modalità di rinnovo dei permessi di validità annuale, niente cambia per il primo permesso residenti relativi sia alla ZTL del centro storico che alle aree esterne regolamentate. Entro il 31 gennaio di ogni anno Metro provvede al rinnovo automatico provvisorio dei permessi fino al 31 dicembre successivo. Entro il 28 febbraio il cittadino è chiamato ad effettuare il pagamento e a certificare la sussistenza dei requisiti oppure la comunicazione formale di non aver più interesse al permesso. Dal primo marzo Metro provvederà a cancellare i permessi decaduti stilando un elenco che sarà trasmesso all'ufficio traffico. Toccherà alla polizia municipale notificare ai cittadini l'atto di revoca dei permessi dando comunicazione alla stessa Metro. Chi si ricorderà di rinnovare il permesso solo a seguito dell'attivazione di questa procedura dovrà sborsare una maggiorazione del 10 per cento rispetto alla tariffa. I permessi revocati verranno definitivamente cancellati dagli archivi di Metro e solo a questo punto i relativi passaggi attraverso i varchi telematici verranno sanzionati dalla polizia municipale.